La ripresa di cui parla il governo Renzi non si vede. È un'accusa senza repliche, quella lanciata al governo da CGL Cisle Will, che a Genova hanno sottolineato la crisi economica che continua a colpire il capoluogo ligure. Secondo i dati forniti dai sindacati, sono stati oltre 7.000 i posti di lavoro persi a Genova dal settore industriale dalle 2009 al 2015. Numeri impietosi anche per quel che riguarda la cassa integrazione. Le ore di cassa integrazione erogate nel 2016 nel capoluogo ligure sono state infatti quasi 3 milioni nel primo semestre e ci sono 2.500 persone in cassa integrazione a zero ore. Un allarme particolare è stato poi lanciato per la situazione dell'ILVA di Genova, che vedrà il prossimo 30 settembre scadere i contratti di solidarietà e i lavori socialmente utili. Una situazione quindi sempre più delicata, per la quale i rappresentanti sindacali hanno chiesto al governo la prosecuzione degli aiuti per i lavoratori.